Ciao ragazzi, ho fatto il piano perché sono dentro del locale, comunque il personale è gentilissimo, tutti buonissimi, però conoscendo la trattoria del nonno e non mi ricordo la vita. Dopo a pomeriggio uscire vi facciamo una carellata. Comunque saluto a tutti, Baglio e Brutto, Neste e Barbuccia. Ragazzi, voi non potete capire che c'è l'ora che questo video vi fate a mano. Ragazzi, come dice qualcuno su YouTube, il formaggio appioste. E dopo cosa mostreremo? Dopo cosa mostreremo? E dopo il dolce? Boh, non si sa, seguitaci. Tartare dello Chef. Ragazzi, alla faccia di che ci vuole male, non è altro male il progetto, ho solo avuto un intoppo. Quindi, buona tartare a tutti. Grazie. 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 Grazie.